Venga avanti il prossimo candidato, grazie di nome, Cicciu Ussurici. Presidente, a servirvi. Scusi, lei lavora in qualche circo? Fa qualche numero? No, sono disoccupato in agibile al lavoro. E allora quel gorilla che si porta presso, mi scusi? No, quale gorilla? Chi deve muo' dire? Ah, le chiedo scusa, sai, non volevo. No, no, non vi preoccupate, tassate pure la gente in Cicciu e Bonana che scambia per una scimmia. Però non muzzica, dottore, non muzzica. Va bene, va bene. Dunque, lei diceva di essere disoccupato? Disoccupato e inagibile al lavoro, dottore. Inabile al lavoro, si dice. È invalido di guerra? Oppure civile? È un garbattone? Sì, guardate, mi risulta che non c'è un'allergia cronica al lavoro e poi non c'è pure la schiena liscia. Ma mi faccia il piacere. Dunque, vediamo la sua cartella. Vediamo che mi può assomigliare questo posto di spazzino. Ma che spazzino! Operatore ecologico, si dice. Al massimo, ne turbino. Dunque, lei ha avuto un buon punteggio con la carriola della spazzatura e è andato 40 all'ora. Molto bene. Nella corsa dei sacchi della spazzatura ha avuto 5 e 10. La colpa è il mio panze porco, dottore. Mi faccio sgambette e catticcarci da terra. Quell'indegno mi vuole fottere un posto. Lei ha studiato? Si è preparato? Io sono autorretratto, dottore. Ho fatto tutto da solo. Ah, lei ha una mente? Guardate, io non mento e non caccio. Dunque, lei si deve cimentare nella cultura. Guardate se i piccoli mi sono in tonde, non puoi stare tanto in sé la mia vita. Ma no, cosa dice? La cultura, caro amico, è un bagaglio. E cosa ti chiede a fare un facchino io? Ma no, un bagaglio che uno nella vita si porta appresso. E adesso questo bagaglio, caro, tu lo devi mostrare a me. Sentite, a casa il bagaglio non andavo, però io ho tre baligie e due pauli. Se sapevo andavo portati. Ma che baligie e pauli? Ma cosa mi racconta? Vediamo come se la cava con la cultura. Avanti, dai, cultura generale. Finocchi, lattucchi, melingiani, cicoria, ciccola. Ma cosa dice? Ma che vende al mercatino? Non faccia dello spirito o la escludo, sa? Scusate, c'è la cultura, doc. Ma io gliel'ho spiegato, carino. Gliel'ho spiegato già, il bagaglio. E se sapeva, chiamavo compadre mio che faccia i traslochi. Che tu sia che sento niente i bagagli. Guardi, dunque, io la voglio aiutare. So che è una persona bisognosa e farò il possibile. Però lei deve stare attento. Dunque, dimmi, caro un garbatto, chi erano i proci? Scusate, questa è una domanda a bocchetto, questo. Scusate, chi erano? O chi sono questi proci? Come chi sono? Me lo dica lei. Il popolo dei proci. E ha ragione, l'altro che il popolo. Quello è una nazione. Ci hanno invaso, non ci sono proci a tutte le parti. Non sono buoni più questi proci. È un'indigenza. Ma cosa mi racconta? Io parlo dei proci della storia. Ora non ci sono più, caro. Sono scomparsi. Sentite amico, voi siete mal informato. E scusate, allora Pannella, che cos'è? Ma Pannella è un'onorevole. Quello è un deputato. È un deputato procio. Ma lei è pazza. I proci sono scomparsi. Eppure c'è bavardo. E mi pare che pure voi avete qualcosa di procio. Ma come si permette? Andiamo avanti. Guardi, lei va molto male. Lei va molto male. Ha capito? E non si permette. E risponde a queste domande. Ha capito? E va bene, scusate. Scusate, aiutatemi. Aiutatemi. Va bene. Dunque, dimmi chi ha fondato Roma. Ah, perché si ha fondato Roma? Si ha spazzito che ha cruro e ne ha aperto. Ma cosa dice? Egregio cretino. Adanti. Uno è stato Romolo. Romolo. Ah, Romolo sai che dure i polli. Che dure i polli. E poi lo ha detto. Ma che polli d'Egitto. Sto parlando dell'antica Roma. Ma scusate, in questa antica Roma non mangiavano polli. Eh, ma credo di sì. E allora anche alcuni mi diva scusate. Guardi, nella storia la devo bocciare. E facetemi domande a riserva, per favore. Sono parte della famiglia. Per favore, aiutatemi. Va bene. Voglio essere magnanimo, un garbatone, il tesoro. E dimmi, chi ha ucciso Cesare? Ah, guardate, queste sono cose delacate. E quante omerta, guardate. Io sto parlando dell'imperatore Giulio Cesare. Uno fu brutto. Va bene, la sto aiutando. E l'altro? E l'altro? E l'altro? E l'altro? Cass. Cass. E Cass, Cass. Cass. Cassio. 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 E la madonna, quanto Cassio gridate. Cassio. Mamma mia, lei mi fa nervosire. Dimmi, che cosa disse Cesare a Cassio quando questi lo colpì? Asaccio, chi sta Asaccio? E me lo dica. Dunque ci disse, Cassio, ma che Cassio mi combini? Perché Cassio mi hai ammazzato? Ma lei non ha studiato. Lei ha da bocciare. Per favore, ma facete perdere un posto, famiglia numerosa. Guarda, io le do un'altra opportunità, va bene? Cambiamo argomento. Lei deve avere stima di me, caro. Perché io la sto aiutando molto. Sì, grazie, grazie. Devo incionare la stima che non avete... Non avete idea, vi astimo sempre. Va bene, va bene. Dunque, parliamo di musica, caro, va bene? Beh, la musica è insomma marrancio, sapete? Con una tarantella, una marzucca, con una stornellata. Ma che tarantella e mazzurche? Le chiedo cose elementari, guardi. Dunque, caro, un garbato. Lei conosce gli autori classici? Per esempio, ecco, questo per indirizzarla. Io preferisco mazzarte. Mia sorella, invece, c'ha i coschi. La vostra sorella è i coschi. E come andava, questi coschi, dottore? Come andava, come andava. Ma che coschi è d'Egitto? No, no, i coschi è di vostra sorella, non quella d'Egitto. Ma io la boccio. La escludo io, capito? Non ti prendere di confidenza. Ma che sapevo che puoi fare con questi spazzini? Non ci volevo la laurea. E ho dovuto tutto posto. No, no, senti, caruccio, senti. Calmati, caro. Stasera sei libero? Ah, insomma. E allora, senti, ti aiuto, guarda. Dimmi, caro, come si chiamano le capanne degli abissini? Questo è facile. Dunque, i capanni in labbrissino, dottore. Capanne, dottore. Ma no! Tu cul, tu cul, tu cul, tu cul, tu culamia, tu culatia, tutti i progetti comattia. Ma cosa hai capito? È il nome delle capanne. Senti, caruccio, guarda. Però, però che cosa, dottore? Però, però, se tu sei veramente libero stasera e usciamo assieme, qualcosa. Combineremo tesoro, un gorbato. Ah! Allora, insomma, i progetti avevano indovinato, allora. Ma va a fare un gioco, la tia, o con quarzi spazzino e a tutti i progetti comattia.